Fai del tuo capodanno un momento speciale con Lidl con il tradizionale antipasto di salmone affumicato salato a mano a soli 3,19 euro un primo piatto di babette con vino a soli 39 centesimi accompagnate da un ricco sugo allo scoglio o ai frutti di mare deluxe a soli 2,49 euro e per brindare il raffinato champagne brut a 13,99 euro Lidl augura a tutti buon anno Grazie